Allora, come sempre, sulle prime pagine dei quotidiani, l'argomento principale della lotta alla pandemia. Ieri il Presidente del Consiglio Draghi ha nominato il nuovo commissario straordinario per l'emergenza al posto di Domenico Arcuri. È un generale, il generale di Corpo d'Armata Paolo Francesco Figliuolo, comandante logistico dell'esercito, è un generale degli Alpini. Adesso si attende per oggi, anzi, la firma dell'uovo di PCM collegato via web. Allora abbiamo il nostro Professore Fabrizio Pregliasco, virologo. Buongiorno, Professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cresce l'allarme, Professore, per queste varianti, per la curva dei contagi che sta risalendo. Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare? Purtroppo un rialzo. Già due settimane fa alla scorsa, più 33% dei casi. È vero che meno morti rispetto alle settimane precedenti, ma purtroppo tutto, come sappiamo ormai, purtroppo l'aspetto della mortalità è conseguente del passato, di 15 giorni, 3 settimane prima. E quindi io temo che dovremmo vedere ancora un rialzo delle parti più tristi, ricoveri, che stanno effettivamente aumentando. Questo lo si vede in diverse regioni, nella mia Lombardia, ma anche in Emilia Romagna, in Campania, insomma, in più zone. E tutto questo è legato, purtroppo, a questa prevalenza delle nuove varianti, in particolare quella inglese, che ha una maggiore contagiosità, del 40% circa. E poi la brutta peculiarità per noi di colpire in modo un po' più intenso i giovani, soprattutto nella fascia di età dai 13 ai 20 anni, dove è salito tantissimo il numero dei soggetti individuati e diagnosticati come positivi. Ovviamente per loro, come capita nella stragrandissima maggioranza dei casi, infezioni del tutto banali, ma facilitanti la diffusione in famiglia e nei contesti scolastici. Quindi una situazione non piacevole a cui dobbiamo far fronte. E spero che le nuove disposizioni, queste nuove modalità di affrontare lockdown mirati, chirurgici, se vogliamo, anche in contesti lasciati relativamente tranquilli, oppure addirittura come nella Sardegna, zona bianca, ma con dei punti rossi per cercare di mitigare quell'effetto purtroppo infastidente e difficoltoso e che in qualche modo per molti sta diventando un problema di insofferenza di un lockdown prolungato. Senta, Professor Pregliasco, nonostante le previsioni siano un po' fosche, però cerchiamo di parlare di soluzioni. Allora, a proposito di campagna vaccinale, abbiamo visto il rinnovo ai vettici della struttura commissariale, con un uomo esperto di logistica, vedremo questo come inciderà sulla campagna, e però lei, Pregliasco, si era espresso in maniera favorevole su una delle ipotesi che è stata paventata nelle ultime settimane, vale a dire somministrare una sola dose, ritardando la seconda, per ottemperare in qualche modo, per compensare il ritardo dei vaccini, in questo modo facendo come la Gran Bretagna. Questo potrebbe essere una soluzione rispetto alla necessità di accelerare la campagna vaccinale? Assolutamente. Due meglio di una, dicendo le cose un po' grossolanamente, perché questo è lo schema che garantisce la massima protezione. Però io credo che ciò che si è visto in Inghilterra, in Scozia, ma anche in Israele, che hanno utilizzato questo sistema, si è visto un calo notevole dei ricoveri e degli aspetti quindi più duri. Allora, così come anche per altre vaccinazioni dell'infanzia, dove ci sono degli schemi standard, ma per forza di cose, anche i bimbi hanno dei guai negli appuntamenti standardizzati e previsti, si è visto che, come per loro, le vaccinazioni possono essere allungate, anche in funzione di questa situazione di scarsità di dosi. La seconda dose, a mio avviso, sarà da farsi, ma, diciamo, spostata nel tempo, anche perché temo che questa vaccinazione non ce la toglieremo con questa prima, diciamo, ondata. Dovremmo considerarla una vaccinazione per qualche anno, un po' come l'influenza, con una dose di richiamo, esattamente. Benissimo, grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, buon lavoro.